Ehi, Todd! Puoi raccogliere i fiori più tardi? Ora, ecco, mi serve il tuo aiuto! Ok, sono sempre felice di dare una mano! Oh, la consegna dei semi! Non è che potresti prendere i semi e portarli fino all'orto? Senz'altro! Ma sarei dovuto andare io a ritirare la consegna dei semi! Lo so, Pico, ma voglio che il campo sia perfetto quando Summer lo vedrà per la prima volta! Quindi vuoi assicurarti che Summer stia lontana finché il sole non tornerà a splendere sul campo? Todd, sei così dolce! Sarà una bellissima sorpresa per Summer! Sì, vogliamo aiutarti anche noi! Riporterò qui Summer non appena spunta il sole! Voi restate nelle vicinanze e in questo modo mi aiuterete a distrarla! Ecco qua, Pico! Ho preso i semi! Oh, ma guarda! Sta sputtando il sole! Summer, adesso torniamo al campo così puoi raccogliere i fiori! Ma avevi detto che non c'era fretta! Non c'è mai tempo da perdere la fattoria, eh? Cosa c'è che non va? Mi sono appena ricordato che... che le pecore sono scappate di nuovo! Sarà meglio che prima andiamo ad occuparci di loro! Ottima idea, Todd! Sarò felice di aiutarti! Già, le pecore sono scappate di nuovo! Dobbiamo aiutare Todd a tenere occupata Summer finché non torna il sole! È occupato! Qui è aperto! Todd! Siamo stati fortunati! Non sono andate molto lontano! Andiamo a prendere i fiori! Dobbiamo restare con loro! Oh no, oddio! C'è una mucca in mezzo alla strada! Come ho fatto a non vederla prima? Beh, meno male che siamo qui! Non posso arrendermi! Summer deve vedere il campo al momento giusto! Hai detto qualcosa, Todd! Bene, allora mi occuperò dei fiori! No! Volevo dire... Non puoi andarci! Perché è ora di raccogliere le verdure! Hai ragione! È quasi ora di pranzo! Le verdure fresche sono ottime da mangiare! Summer, corriamo al campo dei fiori Prima che il sole se ne vada di nuovo! E perché? È una sorpresa! Luca! Luca! Non... Cosa la recupereremo quando torneremo indietro? Tutto bene, Todd! Guarda! Todd! Ti ricordavi che i girasoli sono i miei preferiti? Hai fatto tutto questo per me! E hai lavorato così tanto per farmi una sorpresa! Grazie! Abbiamo portato i fiori e le verdure per pranzo! E c'è anche qualcosa in più per uno spuntino pomeridiano! Semi di girasole! Evviva! Segui le avventure dell'Allegra Fattoria su YouTube! Sub!